o buonasera a tutti da locus aibar che sarei io vedete l'impostazione un po diversa perché abbiamo il telefonino che mi prende non tanto prende solo la capoccia il capoccione grosso che c'ho io in testa ognuno c'è un capoccione il mio capoccio ne parliamo di altai e johnson altai e johnson che è uscito oggi o forse ieri forse oggi o forse ieri non mi ricordo è uscito forse oggi è uscito e naturalmente della cosmo e mi ci costa circa 8 euro 90 ringrazio luca esposito che è il disegnatore di landford che ieri mi ha risposto ovviamente io non ho non ho pregiudizi verso nel senso se compro landford e comunque ci spendo 5 euro al mese quindi probabilmente c'è un'affezione verso quel fumetto naturalmente non lo consiglio a meno che non siate degli landfordisti dipendenti come me ma oggi parliamo invece di un vero capolavoro perché se ora qui il telefono è quel che è se vi faccio vedere altai e johnson altai e johnson sono quanto oggi si lo so nel telefono si vedono all'incontrario ma tanto a noi che ci prega e ci importa questi sono video fatti diciamo ma diciamolo pure tanto è mezzanotte non ci sente nessuno un po' alla cazzo dei cane quindi è ovvio che siamo gente strana che legge cose strane legge fumetti parla di fumetti alla sua nicchia di fumetti e facciamo cose quindi viviamo in un mondo di carta e di inchiostro non sto a dirvi che questi due nomi tiziano sclavi e cavazzano sono dio scesi in terra nel senso sono quanto di meglio potreste avere nell'ambito fumettistico mondiale se voleste se voleste mondiale no ma insomma a livello italiano sono due nomi che non lo so tiziano sclavi ha creato di randog ne vogliamo parlare cavazzano dei più importanti autori disney anche se queste storie sono non dico introvabili perché erano sul corriere dei ragazzi e poi su su orient express e il mago quando era un ragazzo io c'era anche orient express questa rivista di fumetti sto cercando di sistemare sto telefono normalmente c'è chi c'è al trespolo io c'ho una bottiglia d'acqua minerale naturale che fa dal trespolo e quindi rende tutto molto più affascinante questo video fatto un po alla ghezzi in senso manca solo siamo tipo fuori orari ecco fuori orario mezzanotte parliamo di fumetti non parliamo parlare di cinema ovviamente tra l'altro ho recuperato un numero di napoleone e uno di mister no ma lascio napoleone di ambrosini sa tanta roba naturalmente questo numero io costo ero novanta ragazzi novanta e tanta roba tanta spesa tanta tanto denaro tanta cosa io come ho detto ieri vivevo felice e beato senza telefonino ora il telefonino ce l'ho in questo ci sto facendo il video ovviamente potremmo parlare della rincarnazione perché ovviamente il mio vecchio telefonino l'anima si è rincarnata in questo nuovo telefonino perché ovviamente è un po buffo un po come fosse la incarnazione persone mi ricorda molto questa cosa che da che quello che c'era nel telefono vecchio passa in quello nuovo mi ricorda la metempsicosi a me mi ricorda questa cosa qui sarà con una formazione buddista quindi forse penso che quando moriremo saremo i nostri dati saranno immessi in un altro telefonino un altro corpo questa è la mia idea piuttosto delirante come al solito tipo sembra una cosa tipo la philip dick sì un artista che lui si fece un libro di memoria un artista memoria di un artista di merda crede che fosse proprio questo il titolo esatto non vorrei sbagliare philip dick lovecraft e qui parliamo di tiziano sclavi che è stato ovviamente questa le siamo nel 75 l'85 cavazzano ovviamente aveva lavorato già fatto come si chiamava smalto e johnny super giù la formula è la stessa perché quello dei ragazzi non poteva permettersi di fare non sono storie mondo molto lunghe tipo alla nick carter ovviamente c'è nick carter tutto questo c'è anche per le strade di san francisco sicuramente perché c'è la coppia dei due polizzi c'è un tipo delle film americani che andava di moda gli anni 70 ora questo è del 75 io nel 75 avevo esattamente sette anni pensate un po quanto ero bello bimbetto e pacioccolo pacioccolo invece poi sono cresciuto e sono diventato così purtroppo il tempo non perdona a sette anni non mi ricordo che avevo sì la barba penso di no però potrei una barbetta come nerone non so come nero una barbetta invisibile no non credo avesse ancora la barba gli occhiali sicuramente si erano altri occhiali ma sempre cercato sono stato e cercato sarò sempre in secola secolo amen missa e va bene siamo sempre nelle video o naturalmente io non vi sto a dire che questo dovete comprare lo fate un po voi io non sono alessandro orlando quello che vendeva i tappeti qui abbiamo cashmere del 700 avanti cristo a 700 avanti cristo mi dà un po fastidio perché mi vedo imprigionato in questo schermo più piccolo io preferisco il computer che c'è uno schema più grande ma il computer oggi stasera fa le bizze ci ho fatto un video però lo sta registrando non l'ha detto prima che mi ci perdo tempo programma col telefonino poi se non funziona ma col telefonino è andate it mi sei ma secondo me il computer che lento quindi non lo so vabbè io ho un rapporto piuttosto enigmatico e fantomatico con i mezzi di connessione di massa stavo proprio bene questi giorni che mi si era rotto il telefono ma stava proprio da dio no non vi sto a dire cavazzano cavazzano ovviamente in questi disegni come ho già detto ovviamente riprende uderso di ricerca di farlo vedere ma uderso di di coso di di asterix e naturalmente quando sclavi fu messo a lavorare con cavazzano è ovvio che che successe che sclavi aveva l'intenzione di fare una storia un po seria ma i disegni di cavazzano non implica c'è ovvio che sclavi ebbe la la coscienza dice fu lui che si adatta a volte molto spesso cioè successe esattamente quello che di solito succede nei fumetti cioè di sotto è il disegnatore che si adatta allo sceneggiatore o alla storia prendiamo i marvel è ovvio che se tu negli anni 80 lavorare nella marvel dove dovevi avere questo stile qui e si riconosce tutti i disegnatori della madre negli anni 80 hanno questo stile qui preciso poi dopo è cambiato e va bene così se vai a lavorare per l'anford è ovvio che deve avere uno stile alla magnus e quindi è il disegnatore che si deve adeguare in questo caso fu lo sceneggiatore che si adeguò al disegnatore cavazzano aveva avuto anche problemi con la disney con la disney italiano ovviamente perché ovviamente cavazzano faceva si il paperino ma alla cavazzano scusate non c'ho molta voce e quindi rimproveravano la disney di milano che lui dice lei non fa topolino fa disney fa cavazzano e grazie al cassa che avete uno che fa cavazzano perché cavazzano è che io faccio qualche disegno ma sono col compiù col telefonino non si vede tanto però comprate questa cosa perché ovviamente cioè è ovvio che cavazzano e ma anche non sono ovviamente i volti alla uderso però anche nelle nelle scene questo credo sia ambientato a san francisco mi ricorda molto le strade san francisco era appunto un telefono degli anni 70 in cui c'era il giovane michael daglas è un altro attore un po più vecchio non mi ricordo il nome ora c'è il telefonino non posso guardarlo perché ce l'ho qui che sono bloccato eccetera eccetera però c'è sempre la coppia nel senso che nei telefilm molto spesso sta a schiaccio anche stas non mi ricordo sì non però è sempre stata a schiaccio per stare san francisco se quelle film che telefilm che guardavano da bambini da bambini io bambino pensate che c'è stato un tempo sembra incredibile di che in cui ero bambino ero piccolo ma proprio piccolino pensate che cose cose che il mondo non vi dicono le cose nel mondo storico che io ho un già tempo che lo cose va fu bambino un tempo ma proprio bambino coi calzoncini corti che leggeva leggevo un'altra cosa giovantaio johnson perché non era cioè leggevo molto più spesso tex zagor capitan mickey grande black black macigno il piccolo reggio mi piaceva tantissimo il piccolo giro l'appassionato del piccolo a sette anni avevo la passione per piccolo non mi chiedete perché non volevo diventato il capitale e cammini comandante marco piccolo reggio e comandante mancano quelli poi dopo sono passato a runford e tante altre cose nella mia tossicodipendenza da fumetti e che ormai costano c'è ottenuto 90 costa più che un bimbo non so cosa facciamo perdere però questo prendetelo perché tiziano scavi lo vedete tra l'altro c'è una satira cioè nel senso lui si è adattato allo stile di cavazzano e a partire era partito da formare voi del questo dice una sua intervista che trovata anche su youtube credo e poi ovviamente quando vedi questi disegni qui capisci che non puoi fare una cosa seria nel senso che le storie sono un po la nick carter come ci sono questi due detectives fai gas sfigati un tipo un texano mi ricorda anche un uomo da marciapiede altai è una sorta di texano sparacchione johnson c'è tipo il texano e l'ebreo johnson anche se un ebreo tipo da stinofa quindi gli opposti che si attraggono ovviamente quando ci si fidanza si sta con qualcuno si tende andare all'opposto a me ultimamente mi è stato chiesto di scegliere tra anche se però se sono troppo opposti e anche quello è un problema mi dice no mi è stato detto tu tra me libri chi scegliere io ho detto a 56 anni non mi fate queste domande perché è ovvio che mi va e non c'è neanche risposto non me la dovete manco chiedere stavolta che scelgo libri ovviamente perché le passioni nullanti della carne ormai tacciono nel bosco della memoria quindi ormai insomma si chiama barba bianca quindi c'è mi mi eccita più la pergamena la carta pecora e perversioni mentali che la carta carneviva ecco più anzi la carta pecora sapete che i libri del medioevo erano fatti con la pelle di pecora che veniva essiccata quindi ha sempre pelle però pelle un po lavorata quindi a me no io non ho molta carta pecora questo è tutto cartone cartonato questi sono i formigini dietro che non vedete però questo ovviamente va preso perché le storie sono a parte i disegni cavazzano che ovviamente contro stile grottesco riporta molto a me mi ricorda molto per le strade di della california di san francisco mi sembra di san francisco e anche guardate come fa le auto cavazzano cioè io credo che il cavazzano sia stato se avesse lavorato per cioè se cavazzano non ha avuto il successo di uderso che ha lavorato per asterix è perché appunto uderso ha lavorato per asterix quindi anche un grande disegnatore a volte non è detto che cioè non è detto che i disegnatori più famosi siano quelli più bravi non voglio dire che uderso non sia bravo non voglio dire che alcuni disegnatori americani non siano bravi ma alcuni disegnatori italiani come cavazzano in altri contesti anche francesi avrebbero forse avuto un successo incredibilmente superiore calazzano ovviamente la scuola veneziana eccetera eccetera come frollo di questa scuola che ha dato natali e pasquali battuta alla graucio mars tremenda che di per cui se vi disiscrivete a questo grande fate assolutamente bene ma mezzanotte non mi vengono più di tanto le battute non so che dirvi ecco per me questo vi questo fumetto vale non so veramente che dirvi potete non prendo io non veramente sembra essere sandro orlando che vende tappeti ma sclavia e cavazzano otterra 90 e valgo lando che ho preso anche lando ma non perché poi ci sia parte a me c'è lintano non è che mi ha mai skin skin finferato in un fumetto sexy con una faccia di celentano per me è il massimo dell'horror c'è a me l'ultima cosa che vedendo celentano è l'ultima cosa che mi si accende è un desiderio erotico non lo stimola i miei ormoni ecco non che abbia un antipatia per celentano però celentano nudo ci fa anche senso quindi anche un po impressione anche lando buzzanca perché poi c'è c'è mettere quindi proprio mi serviva più che altro per rientrare in quella vita da caserma degli anni 80 io fece la visita nel 80 in cui nelle caserme si leggeva lando il montatore quei fumetti del punto ma non mi serviva un po per ricordare un po quell'epoca naturalmente quando si guarda nei fumetti si lega i fumetti si cerca anche di rivivere un po la recerca del tamper du insomma rivivere sensazioni che che sono ormai sedimentate nella memoria ecco non so che come dirvelo e no queste sono questo è un piccolo capolavoro per esempio c'è anche una satira molto sul sulla musica sulla creazione di star musicali eccetera eccetera insomma i personaggi sono ovviamente altai e johnson più uno sfigato apprendista orville che cerca di farsi assumere come guardate sti disegni guardate che bellezza però ragazzi come investigatore poi il tenente kenna che ovviamente il nemico c'è c'è sempre nei telefilm americani il tenente che detesta il l'investigatore privato da un free bogat in poi insomma è sempre stata così naturalmente tiziano sclavi lavora molto sui luoghi comuni dell'investigatore privato però lo fa in chiave ironica in realtà ripeto questa cosa doveva partire sarebbe dovuta partire come una cosa seria ma ovviamente lo disegno cavazzano e c'è il po difficile a parte da alcuni tratti anche molto gotici san gavazzano gotico e l'opposizione tra johnson che parla con i cani quindi forse c'è un futuro accenna di dan dog il maggiolino ricorda altro film maggiolino ma tutto matto da un film disney vabbè quando ero piccino io guardavo queste cose qui un maggiolino tutto matto ma giro la macchina che parlava mi ricordo insomma che poi la becca che era un maggiolino che vinceva tutte le corse e ovviamente il maggiolino ricorda molto molto anche per la macchina di dan dog eccetera eccetera quindi un po queste macchine sfigate che piacevano a tiziano sclavi non so se fosse un maggiolino 500 insomma non è una macchina al taglio johnson non hanno una macchina molto americana perché questa macchina mi sembrava una 500 insomma non so cosa sia non sono un grande intenditore di macchina tutto mi sembra in americani ovviamente dove un paese dove la benzina a quei tempi costava pochissima è ovvio che le macchine avevano dei motori che bevevano più benzina di quanto un alcolista anonimo beva vino e vino e whisky a tutta la grande quindi ovvio che le macchine quando vediamo telefilm americani vediamo pensate alla macchina di stars che ha c'è quella color pomodoro pensate altro telefilm boy duke boy duke io mi ricordo la cucina desi ricordo onestamente di quel telefilm mi piaceva molto la cucina desi follemente innamorata anche direi tutti i miei fogli amori impossibili la cucina desi che però non rappresentava quando si andava a scuola sa quella c'era in classe o nel liceo quella bella c'era proprio quella stratosferica a cui tu la vedevi come una dea irraggiungibile e naturalmente si metteva col peggio bigoncio col peggio ramarro del liceo e quindi te spartigia beh tende solamente ribello dentro però quando sei bello dentro hai dei bei polmoni dei bei intestini però non si evince molto da vabbè queste altre storie ricordi di gioventù che per fortuna non torna più ringraziamo il dio la gioventù non torna comunque non voglio fare un video molto lungo perché l'ho già fatto non sono riuscito a caricarlo quindi caricherò questo bello si ricorda molto se questa sembra una 500 insomma non lo so la 500 sì mi sembra proprio una 500 500 per le strade di los angeles abbastanza surreale nel senso non si la vespa nasce anche quella come oggetto italico ma poi ha avuto un grande successo anche negli stati uniti mentre noi andiamo con quei tricicoli elettrici che sono veramente vergognosi e stamposi naturalmente questo io ve lo consiglio caldamente potete non comprarlo fate un po voi a me non me ne può fregare una cippa siamo tutti amici eccetera eccetera scusate questo video fatto un po alla buona un po la però questo ve lo consiglio domani non so con cosa registrerò forse con un vecchio macinino mi hanno prestato due francesi si chiamano su due fratelli lumiere mi hanno prestato un nuovo strumento loro chiamano cinema per registrare detto guarda usa questo che è la fine del mondo l'ultimo modello in fatto di tele video tele market ebbene sì questa mente siamo a 1683 sono video alcuni lo faceva anche con il telefonino però l'unico problema il telefonino che mi siccome a specchio in vabbè comunque viene tutto specchiato quindi va bene proprio piate così naturalmente c'è anche un leone in questo questo vabbè giocatori di questo è veramente ricorda molto a me l'estate san francisco mi ricorda molto quei tele filmi quei tele filmi vabbè coccodrille e leoni è ovvio che sono storie assolutamente surreale e nella loro surrealità una giornata tranquilla appunto con orvi che cerca di costruire un mitra eccetera eccetera ricordo c'è stato secondo me un furto di cavalli mi ha ricordato persino febbre da cavallo con il mitico proietti montesano che ovviamente fanno un gruppo e aldo aldocelli come si quello che dita di no di tazza di sanduca che faceva il giudice eccetera eccetera di amici miei che tra l'altro aveva fatto attore e regista in brasilia prima di tornare in italia e dedicarsi a sanduca e febbre da cavallo febbre da cavallo sì sì ok ho degli avvisi ma io finirei qui questo video e vi lascerei vi auguro la buonanotte perché c'è mezzanotte 20 e io me ne andrei a cuccare grazie a tutti